Ciao e benvenuti in questo splendido stadio Non potevamo sperare il tempo migliore per l'incontro di oggi Soglie ore, denticello, niente nulla Cosa chiedete di voi? E allora mettetevi coni e preparatevi a questo attesissimo liceo Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito E a quanto pare sulle tribune non interranno meno spiega Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altrizia della fede dei sostenitori Tra i più grandi stati d'Inghilterra con i suoi 75 mila e più posti a sedere Nell'Ordraff di Manchester ospita le gare casalinghe di una delle squadre più vincenti della terra dal blu Due club di prestigio uno di fronte all'altro Quando un amichevole diventa spettacolo In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole Vorresti sempre assistere a partite di questo genere In una stagione non si ha la fortuna di vederle tante Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di trovare nuovi schemi contro avversari di alto livello L'anghito ha già dato il fiocco Una domanda al volo Qual è il giocatore chiave di questa meta? Secondo me sarà la partita di Azpiliqueta Io di questo giocatore ammiro la sua capacità Da qui essere attento quando deve fare la fase difensiva Ma anche molto utile quando la squadra attacca Buongiorno Non c'è più E con questa la palla E c'è un bel pallone davanti Prova il tiro E c'è il gol Era il posto giusto al momento giusto Questo è quello intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone È una dote fondamentale in area di rigore Primo acuto della gara Gianni in un'unità iniziale Show Pogba Pogba Sulla destra Arsial Cristiano Cristiano Grande parata dell'esterno difensore Direi che il portiere è stato impeccabile È difficile fare meglio di così E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner Buon intervento difensore Pogba Pogba Cerca di lanciare il compagno Fast e show Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti Il Chelsea sta tenendo alto in entrambi i terzini Vogliono aumentare la spinta sulle fasce limitando l'avanzata di destelli avversari E per farlo ripressano altri Vado da bloccare la loro azione Gasfor E poi lo dicevo Una conclusione assolutamente imparabile Prego che non abbia nemmeno guardato la porta La sentiva A colpito di puro istinto Trovando l'angolo giusto Incredibile Il pareggio è arrivato Mentre ancora stavano festeggiando il gol Lancio lungo di potere La metti in avanti Bruno Fernandes Non può sbagliare Lo hanno marcato molto bene Non si è potuto liberare Suma Buona dose di equilibrio in campo Un match che può cambiare da un momento all'altro Pogba Da lì può segnare Ma si ha un colpo di testa Ottimo tentativo Ma non trova il gol Esito sfortunato Ma ha spaventato non poco gli avversari Palla a Lucado Ottima pressione la sua Palla recuperata Situazione spinosa Ma il suo intervento è stato providenziale Lucado E questo è fallo Non ha dubbi l'arbitro Tocca in avanti Occhio al tiro È uno che non si fa mai pregare Quando si tratta di tirare in porta Se c'è spazio a sufficienza però Fa bene a provarci La gioca in profondità Palla filtrata per Lucado Shaw Rashford Bruno Fernandes Pogba Arriva Cristiano Ronaldo Vuole il lancio più grande Spazza via senza pranzo Palla al centro Si fa trovare pronto A lontano McDonnell La palla viene rigiocata verso l'interno Shaw Riceve in posizione interessante Aveva un sacco di opzioni in area di rigore Ha grossato proprio male in questa situazione Non è finita Buono l'intervento del difessore Che concede comunque un calcio d'angolo Che va Senza problemi Siuma Lagone lungo In verticale Non riesce a mantenere il possesso Provano a partire in velocità Pogba Una rete che si è costruito tutto da solo Che iniziativa Che senso del gol Grande plentezza Grande tecnica Nella stazione pressionale Ha fatto davvero Tutta la perfezione Comunque con una rete in più da da passare Ribaltare il risultato è una grande impresa Ma difenderlo non sarà affatto facile Vediamo se ce la faranno Cilwell su pallone Prova a scavalcare la difesa con il pallonito Scodello in avanti Arriva Cristiano Allora Tocco morbido Il primo tempo Rappello interessante Tutte le squadre si sono andate Molto Una rimonta un po' sorpresa Giudicato dal vuoto Non se ne aspettavano nemmeno sugli spazi L'arbitro manda tutti negli spogliatori Sono trascorsi soltanto 45 minuti Fabio E ci sono già tutti gli elementi Per inserire questa partita Tra i classici da ricordare E come dicevamo Abbiamo solo il primo tempo alle spalle C'è ancora molto da vedere 2 a 1 Gran bel primo tempo 3 gol Tante emozioni E sicuramente la ripresa non deludeva Iniziano i secondi 45 Attenti al tiro Ed ecco il gol Ecco il gol Sono entrati in campo con un altro passo Si vede subito in questo secondo tempo Un gol facile facile Anche troppo direi Pulisic Sapeva già dove sarebbe arrivata la palla Questa squadra gioca a memoria Prepara gli schemi con grande cura Hanno ritrovato la parità L'esito di questa gara secondo me sarà empirico fino alla fine A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere Tiago Silva Il potere è la calcia lontana Bell'anticipo Veicolo sventato Pugba Lindelof C'è la palla lunga in avanti Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo La palla oltrepassa la linea e l'arbitro indica la rimessa Cantetto Lungo passaggio in avanti Occhio attraverso Digli azioni di testa Bella l'azione Anche se non è andata certo a punti Il Manchester United deve dimostrare maggiore attenzione Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose Cristiano Ronaldo Aspili Quetta La difesa non sale Fabio, ho visto? Non puntano sul fuorigioco Secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente non vogliono concedere la possibilità dell'uno contro uno con il portiere Se sbagliano in uscita la possono pagare cari Così prendono le misure anche a possibili inserimenti dei centrocampisti Il capo Guai Di forza Palla in avanti verso il compagno L'avversario ha avuto la meglio Cristiano Ronaldo Bel gesto tecnico Oggi è autore di un assist Cerca l'uomo là davanti Lotta ma perde l'equilibrio Con Manchester United Si la cava anche con un pizzico di fortuna Lindelof è stato provvidenziale Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene I compagni devono ringraziarlo Luca Luca è il portiere viceminale Bukba Bukba La difesa Ed ecco il cross Per un tortino E c'è proprio il gran gesto tecnico E mettono la testa avanti Che partita Intervento fantastico per coordinazione e tempista Gran gesto tecnico Sapeva già dove sarebbe arrivato il cross E ha colpito benissimo il gol Sono in vantaggio di un gol Vantaggio meritato Ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso Scatta verso il pallone Posizione regolare C'è il tackle 2 C'è fallo E' ben posizionato E spazia via la palla Sceglie di battere con A questo punto del match Non possono restare nella loro metà campo Devono proporsi in avanti Pur senza sbilanciarsi troppo Devono pareggiare E fanno bene a prendersi qualche rischio Anche i difensori Per accompagnare la manovra Occasione per il contropiede Difesa molto distratta in questa occasione Non possono permettersi di perdere la concentrazione così E se è una difensore la calcia lunga Ciò che è una palla lunga Rashford Jorginho Si è fatto trovare brutto Vengeve la palla Alla peggio nello scontro di forza Brutto intervento Grande sabotaggio di De Gea Si esprime in un buon intervento Non ha sbagliato nulla All'estremo difensore ha mantenuto la calma E ha reagito Aspiriqueta Buona occasione Rashford Ha già segnato due gol Aspiriqueta Eccolo il triplice fischio Il fischio che determina la fine della gara Non hanno mollato Mai Hanno messo in campo determinazione Forza